Partenza in pullman di primo mattino, prima tappa, un istituto di Baraggiano dove ad attenderlo ci sono gli studenti. Così è iniziato stamattina il tour Sbilanciamoci, voluto dal presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella, per illustrare ai cittadini la manovra finanziaria approvata la scorsa settimana dal Consiglio regionale. Io ho recuperato molta adrenalina da loro. Non so che cosa sia riuscito io a trasferire, sicuramente le giuste informazioni e la passione che non mi manca. Ma anche la necessità di mettercela tutta per reagire e perché questa basicata possa farcela, deve farcela, dovrà farcela. E credo che sia stato un utilissimo, ottimo incontro. Perché per intensità, per partecipazione, per attenzione e anche per merito, per contenuti. Per cui sono molto soddisfatto. A proposito dei contenuti, le hanno chiesto, le hanno fatto domande le più disparate possibili. Da Renzi all'inquinamento, alla Card Carburanti che le è costata anche un applauso. Che cosa ne pensa? Sono molto contento di quell'applauso perché la dice lunga rispetto alla nostra azione e anche alla nostra battaglia. Noi abbiamo delle priorità che sono l'inclusione sociale e il segmento della povertà. E abbiamo un territorio che si sta digerendo, autodigerendo. E abbiamo bisogno di utilizzare al meglio le risorse che noi produciamo. Invece di polverizzarle, sarebbe utile farlo a partire dall'utilizzo più virtuoso, dico, di quel tesoretto che è un famoso 3% delle royalties. Oggi o ieri utilizzato per una Card Carburante che domani può essere, evolvendo, rispetto alle nuove condizioni sociali, essere utilizzato per questi due temi, grossi temi. E lì è saltata e scoccata la scintilla dell'applauso, anche perché le domande, attenzione, dei ragazzi, poi alla fine hanno tratteggiato due elementi importanti, due settori importanti, due nevralgicità. Uno, la povertà e l'inclusione sociale, l'altro è l'ambiente e l'utilizzo delle risorse del petrolio. Per cui come può comprendere il nervo scoperto della società lucana. Ma il tour mattutino del presidente è continuato anche nel pomeriggio facendo tappa a Vietri e a Balvano, due paesi del marmo melandro che, come precisa Costantino Di Carlo, presidente dell'area programma, non sono interessati dalle elezioni amministrative di fine maggio. A Vietri il governatore ha visitato l'abbazia dei frati francescani, un luogo dell'anima per trovare fiducia per affrontare le sfide che ci vengono poste, ha detto Pittella. E da qui, da una sorta di sala per gli incontri, il governatore ha parlato in maniera semplice, efficace e accorata, illustrando ai tanti presenti i pedali sui quali l'amministrazione regionale vorrà insistere per far ripartire la regione. Uno fra tutti, quello della fiducia, quella nel futuro, e quella che invece va recuperata tra amministratori e cittadini. Perché in fondo il senso di questo tour è proprio questo, recuperare quel rapporto incrinato e spezzato tra istituzioni e persone. In serata, Balvano, paese del terremoto dell'80, per incontrare gente, parlare, spiegare, rispondere ai quesiti posti di volta in volta, sui piani sociali di zona, sui finanziamenti ai comuni, quando i mittenti sono i sindaci. Piccole cose, ma anche povertà, ambiente, sia che chiedano i ragazzi, sia che siano a chiedere i cittadini. Piccole cose, ma anche povertà,